Un noto proverbio ci dice che marzo è pazzerello, guardi il sole ma prendi l'ombrello. Ebbene sarà proprio questa la caratteristica principale del prossimo weekend, che vedrà ancora l'Italia esposta a correnti umide dei quadranti occidentali di estrazione oceanica che piloteranno nuove perturbazioni in marcia verso il nostro paese. Il primo fronte lo vediamo centrato proprio in queste ore sulla penisola iberica, ebbene sarà proprio questa perturbazione che nel corso di venerdì attraverserà buona parte d'Italia. La grafica successiva evidenza come questo primo fronte attraverserà lo stivale da nord verso sud, distribuendo acquazioni sparse e anche qualche temporale in marcia da ovest verso est. Attenzione perché una seconda perturbazione arriverà a seguire nel corso di sabato, interessando però questa volta il nord Italia e i settori del medio alto versante tirrenico, lasciando quindi più riparato il centro sud e le isole maggiori. Questa perturbazione sarà però seguita nel corso di domenica ancora ad aria umida instabile in arrivo dall'Atlantico, che rinnoverà della variabilità al nord-est sulle aree interne del centro sud e nonché anche quelle delle isole maggiori, con acquazioni sparse ancora e qualche temporale, soprattutto ad evoluzioni di urna, quindi più frequenti nelle ore pomeridiane. Maggiore schiarita invece sul resto d'Italia. Attenzione perché come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, una massa d'aria fredda di origine artica invaderà buona parte d'Europa nei prossimi giorni. Abbiamo indicato qui le varie tappe, entro martedì avrà invaso buona parte del continente spingendosi fin verso la Francia meridionale. L'Italia per il momento non sarà bersaglio principale di questa versione fredda, quindi rimarrà ancora ai margini per ulteriori dettagli, però vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti. Non perdete quindi i nostri dettagli su trebimeteo.com. Ci vediamo domani.